Ok Robin, ma cosa intendi quando dici contenuti di valore pesanti? Non è che io capisco proprio bene bene cosa hai in mente. Giusta l'osservazione, ti riesco subito quindi prima di farti vedere questi esempi, cosa sono secondo me i contenuti di valore pesanti? Prima di tutto sono contenuti che si distinguono dai contenuti normali che trovi là in giro per il web. Perché là in giro per il web che cosa trovi? Per lo più nel 90, 95, 96% dei casi trovi articoli più o meno buoni, la maggior parte, e una marea di blog post, poi li potresti chiamare nella stessa maniera, fatto sta, che sono degli articoli. Ma questo non è l'unico tipo di contenuto che si può produrre, proporre e condividere su web, lo sai anche tu, no? Quindi i contenuti di valore pesanti non sono generalmente questi qui. I contenuti di valore pesanti sono creati non con l'obiettivo di pubblicare, aggiungere, inserire un nuovo contenuto, ma con l'intenzione di creare qualcosa di veramente utile, che risolve un problema, un interesse specifico. Se tu guardi un articolo, e sì, non dico che non ci sono articoli che non mi risolvono il problema in tre paragrafi, ma quando io parlo in questo contesto di contenuto di valore pesante, intendo qualcosa che vada oltre, che sì, mi risolva magari il problemino spicciolo, ma che mi aiuti a poter approfondire, a poter capire problemi collegati allo stesso, di modo da diventare a tutti gli effetti un punto di riferimento per me ogni volta che ho quel tipo di problemi. Terzo elemento decisivo di contenuti di valore pesanti è che sono rari, non sono delle cose che trovi ad ogni angolo del web, sono immediatamente riconoscibili infatti per questo, e hanno la caratteristica che io ho utilizzato come criterio per scegliere, quelli che ti faccio vedere oggi, che non chiedono nulla in cambio prima di essere visti o utilizzati. Quindi se dovessi darti delle caratteristiche precise di un contenuto di valore, e dirti quali sono quindi i criteri in base ai quali io ho scelto gli esempi che ti faccio vedere oggi, direi che i criteri sono uno, che devono essere completamente gratuiti, due, devono fornire informazioni più che approfondite su un argomento specifico, numero tre, devono raccogliere e organizzare informazioni e risorse utili, non solo riflessioni, pensieri personali, opinioni, qualcosa di più, devono andare là fuori e raccogliere materiale utile, numero quattro, sono contenuti di valore pesante quando sono immediatamente utilizzabili, facili da consultare, che ci posso accedere in maniera rapida e veloce, sono per me contenuti di valore che possono far parte di questo gruppo che andrò espandendo nel tempo con i suggerimenti che mi manderai anche tu mano mano che ne scopri in giro, quei contenuti che non servono a vendere qualcosa per prima cosa, ma che danno valore, forniscono delle informazioni utili prima di cercare di vendere qualcosa, rappresentano un interesse di chi sta dietro al progetto, non sono un business per il business, ho pensato questo business perché si potrebbe guadagnare tanto, no, i contenuti di valore pesanti sono dietro a un info startup dove chi sta dietro ha un interesse specifico, personale in queste cose e infine come ti ho già detto non hanno utilizzato questi contenuti di valore pesanti, dei capitali, degli investimenti dei partner per poter essere realizzati, a differenza di tanti esempi che abbiamo di tech startup che comunque tu lo voglia giudicare devono investire dei soldi per realizzare i loro software e la loro parte tecnologica.